buongiorno a tutti sia oggi farò vedere una parte che di un video che ho fatto gli attacchi perfetti dragon ball di attacco più bello tanto pure il telefono storto quindi verrà uno schifo la cosa che lo renderà bello sarà solo questo attacco quindi guardate poi sulla mia tv su netflix entrati in microsoft firefox questo non è perché il primo attacco di gohan ma quello bello è questo qui che viene adesso ve l'ho detto così qui questo attacco era bellissimo e chiudo grazie grazie grazie